Questa è mezzo forte, questa è piana, ok? Questo è sempre spento e questo è sempre acceso, cioè silenzio e suono. Siamo preparati per indipendenti, eh? Siamo preparati per indipendenti. Staccata la spina che posso fare quando vuoi fare così niente. Non sento niente. Ah, l'effettivo astronomico l'abbiamo fatto, lo sai? E suono, no, silenzio, suono. Silenzio, suono, ok? Dinamica, forte, piano, su due parametri indipendenti. Questo vale da solo e questo anche vale da solo. Chiaramente quando questa è aperta. No, quello no, vale da solo. Vale da solo o quando questa è aperta? Vale, vale autonomamente. Ok, no? Facciamo un attimo ancora questo. Molto bene. Vediamo questo parametro, eh? Chiaro, no? Spinto. Chiaro. Spinto. Spinto. Colta. a Grazie.